Allora Gil, un saluto ai tifosi del Bari, un saluto ai tifosi e una cosa che ti è rimasta impressa di Bari? Tante cose belle, mi sono trovato molto bene, un saluto a tutta la città, mi sembrava doveroso salutare di persona questa città che mi ha dato tanto tutti questi anni. E un saluto al nostro giornale, a GoBari, che è nuovo? Certo, bocca al lupo allora, speriamo grosse soddisfazioni per quel giornale e per il Bari. Ci vediamo in Serie Agile, grazie.